Si parla tanto a delle monete che invece potrebbero cambiare la nostra vita e potrebbero entrare addirittura nel nostro telefonino. Luca? Assolutamente, perché se abbiamo visto oggi stiamo parlando del lungo e travagliato cammino dei minibot, ci sono monete molto più agile e snelle, non soltanto il Sardex che è un esperimento locale, ma esperimenti molto più ampi, globali appunto, come la Libra, che è la moneta che Facebook ha annunciato entro l'inizio del 2020. Quindi, insomma, ci stanno lavorando, ecco. Ci stanno lavorando e hanno dimostrato di saper fare abbastanza sul serio. Perché è diversa, noi ci siamo fatti un po' di domande su questa Libra, perché è diversa anche dalle altre valute digitali, ad esempio il Bitcoin che abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi per le sue fluttuazioni folli. Beh, innanzitutto sarà molto più stabile rispetto al Bitcoin, almeno questo promette Zuckerberg. Perché? Perché sarà ancorata, questo è il termine tecnico, alle valute tradizionali, ai titoli di Stato. Quindi il valore che sarà stabilito più o meno attorno a una Libra uguale un dollaro dovrebbe rimanere sostanzialmente lo stesso. Ecco, per capire la portata di questa Libra, basti pensare che al mondo ci sono 1,7 miliardi di persone che non hanno accesso a un conto corrente. Hanno invece in moltissimi casi uno smartphone che è invece lo strumento fondamentale, l'unica cosa che serve per poter utilizzare la Libra. Abbiamo detto che sarà molto meno volatile, varrà più o meno un dollaro, ma cosa ci potremo comprare con questa Libra? Beh, sicuramente quello che compremo oggi con i soldi, con le carte di credito su internet, beni, servizi, prodotti di qualsiasi tipo. La novità è che ovviamente non pagheremo commissioni, come è per il Bitcoin, ma non pagheremo commissioni, non pagheremo le commissioni sulle carte di credito, sui bonifici, ma Facebook ci guadagnerà qualcosa, altrimenti non avrebbe senso farlo ovviamente. Cosa ci guadagnerà? Sicuramente influenza, sicuramente indipendenza, che Facebook ha dimostrato di saper monetizzare diciamo abbastanza bene. Non la gestirà direttamente Facebook, ma è nato un consorzio di 28 società, sono tutte grandissime società che hanno investito 10 milioni di euro a testa, quindi immaginiamo appunto che abbiano una certa aspettativa di tornaconto da questa operazione. Si potrà convertire nei vecchi soldi, questa è una cosa molto particolare, perché ad esempio pensiamo ad un'applicazione come quella sui money transfer, cioè l'invio di denaro dall'Italia all'estero, che tantissimi stranieri ad esempio in Italia utilizzano, e che la Lega sta cercando di tassare da tempo, ecco questa è un'applicazione ipotetica, sarebbe una conversione da valuta digitale a valuta tradizionale. Cioè Luca, per capirci, se io ho un gruzzoletto di libra nel mio profilo Facebook, non solo posso fare degli acquisti nel mondo di internet, quindi Airbnb, il panino con Justiz, ma potrei anche monetizzarli in valuta corrente. Teniamo conto che siamo ancora ad uno stadio ovviamente iniziale, quindi non è stato chiarito tutto quanto, tutto quello che si potrà fare esattamente, però l'ipotesi di poterla convertire in moneta tradizionale sembra che sia abbastanza credibile, appunto il money transfer ne è un'applicazione chiara e lampante. C'è anche un'altra questione, i like, cioè come si guadagneranno queste monete? I like, pensiamo alla visualizzazione sui social, gli youtuber che fanno milioni di euro, quel meccanismo si potrà applicare, quindi i like diventeranno soldi? È un'altra bella domanda. Sicuramente c'è chi se ne preoccupa, sono le banche, e allora forse è da prendere un po' in considerazione un po' più seriamente l'osservazione di uno che di banche ne dovrebbe capire, che è Paolo Savona, che è il presidente da qualche mese della Consob, che ha notato questa cosa, appunto Zuckerberg, quando ha dovuto scegliere il nome per questa libra, ha fatto la stessa scelta che ha fatto un altro signore qualche tempo prima di lui, che è questo signore che sta per comparire alla mia sinistra, che è niente proprio di meno che Carlo Magno.